Oggi sono sulla costa del Trabocchi, uno dei miei luoghi del cuore, un luogo che raggiungo in pochissimi minuti, in pochi chilometri con la mia bicicletta, un luogo magico, un luogo che presenta queste sfumature, questi colori, questi profumi e questa bellezza, bellezza ineguagliabile, unica, che potete trovare solo qua in Abruzzo frequentando questi luoghi, i luoghi del cuore, la costa dei Trabocchi. Quanta bellezza nel suono delle onde del mare che si infrangono sugli scogli. Sono sulla passarella del Trabocco Mucchiola, il primo Trabocco che voi incontrate venendo da nord sulla costa dei Trabocchi, uno dei tanti che vi accompagna fino a San Salvo in questa bellissima costa dei Trabocchi. Questo è uno dei miei luoghi del cuore. Siamo ad ottobre e qui siamo in Abruzzo, una giornata meravigliosa da passare con i tuoi hobby preferiti. Per me sono beach da un lato e mare dall'altro, ma questo mare, il mare della costa dei Trabocchi. Attraverso questa passarella voi raggiungete il Trabocco. Tutti questi Trabocchi abruzzesi sono caratterizzati da queste lunghe lingue di legno che li collega alla terra. Attraverso questa passarella voi potete entrare all'interno del Trabocco e vivere le emozioni che solo questi luoghi sanno dare. Ottobre! Mo' ci devi venire sulla costa dei Trabocchi. Adesso è il momento giusto. Mare stupendo, poca gente, servizi eccelsi, presse abbordabili. Adesso ci devi vedere. La passaggiata orientale di Ortona. Anche questo è uno splendido scorcio che appartiene alla costa dei Trabocchi. Anzi, questo è proprio l'ingresso della costa dei Trabocchi da Nord. Al termine della passeggiata orientale, lo splendido castello aragonese.